Musica Buonasera e ben ritrovati ancora insieme come ogni mercoledì sera alle 21.30 in punto negli studi di una mela al giorno sono pronti per trascorrere alcune ore insieme per occuparci del vostro benessere, della vostra salute e non solo. Apriamo questa serata però occupandoci delle donne, non me ne vogliano gli uomini anche se poi in realtà quelle che poi sono le problematiche femminili inevitabilmente si ripercuotono anche nella sfera maschile quando si tratta di una coppia. In particolare questa sera voglio affrontare un problema su tutti che può colpire la sfera intima della donna quando questa affronta il periodo della menopausa e mi riferisco alla secchezza vaginale. Per saperne di più allora vi vado a presentare immediatamente la nostra prima ospite con noi in studio questa sera, la dottoressa Maddalena Mallozzi, ginecologa, coordinatrice del centro menopausa della Clinica Feideia di Roma. Benvenuta dottoressa Mallozzi. Grazie, grazie. Piacere mio stare qui con voi stasera. Dottoressa, allora io ho voluto già svelare quello che sarà il tema, il focus al centro di questa nostra chiacchierata che è la secchezza vaginale, poiché è una problematica evidente, una problematica che si presenta ma che probabilmente spesso viene poco trattata anche per timore, per vergogna. Allora io darei prima una definizione di questa secchezza vaginale, quindi come si presenta effettivamente a livello sintomatico nella donna? A livello sintomatico abbiamo due casi, nel senso il caso in cui la donna lo percepisce anche al di fuori del rapporto come questa sensazione proprio di secchezza, di mancanza di lubrificazione, di irritazione e soprattutto invece al momento del rapporto, quindi i rapporti diventano dolorosi perché appunto manca la lubrificazione naturale arrivano a volte a essere descritti anche come se si avesse la percezione di carta vetrata che strofina quindi insomma un aspetto molto impattante nella vita relazionale ma anche e soprattutto nella vita di coppia e quindi insomma un argomento molto importante di cui parlare. Assolutamente dottoressa perché poi potrebbe anche succedere che la coppia entri in crisi e magari l'uomo possa sentirsi poco desiderato senza capire che la donna sta affrontando un problema che per quanto fisiologico diciamo rispetto al periodo che vive è un problema che come tale va curato. Ecco quindi io direi il problema c'è, può presentarsi ma esistono dei rimedi, questa è la buona notizia. Assolutamente sì, assolutamente sì. La cosa che va sottolineata a mio parere e che molti non sanno che ovviamente la secchezza vaginale è un problema che si presenta soprattutto ma non solo in menopausa e in menopausa con la secchezza a volte si può anche instaurare un calo effettivo del desiderio sessuale non del desiderio verso la persona perché quando c'è un rapporto d'amore è qualcosa di più completo ma del desiderio fisico di per sé. Quindi è un aspetto che va curato ma in simbiosi perché noi possiamo ripristinare l'anatomia, la funzionalità ma poi dovremmo anche aiutare se necessario tutto il resto aspetto del desiderio. Per quanto riguarda solo la secchezza vaginale come giusto appunto stavamo dicendo ci sono tantissimi rimedi, non tanti. Il mio consiglio è sempre quello di partire da subito dai primi accenni di questo piccolo sintomo perché lì con terapie poco invasive si può subito arrivare alla normalizzazione del problema. E quali sono? Sono in primis gli ovuli o creme a base di semplici acido ialuronico e collagene come quelli che noi utilizziamo per curare la pelle del viso. Secondo step, entriamo poi nella categoria diciamo farmaci ma non solo e poi vi dirò, abbiamo o delle compressine che si possono prendere per bocca che sono definiti SERM ovvero modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni, che significa che vanno ad agire come estrogeni ma solo in alcuni apparati, quindi in primis quello ovviamente vaginale, sono neutri se non addirittura anche o leggermente protettivi alcune tipologie sulla parte mammaria, tutelano l'osso che è un altro elemento che noi sappiamo che meno pausa può andare a sopperire, unica piccola pecca, perché è un farmaco e figuriamoci se non ha qualche effetto collaterale purtroppo, aumentano leggermente il rischio cardiovascolare, un pochino come fanno anche i contraccettivi, insomma addensano per così dire, per rendere la cosa più semplice il sangue, quindi è un fattore che noi dobbiamo tenere in considerazione quando lo andiamo a considerare. Però da questo punto di vista basterebbe fare delle analisi per stare tranquilli? Bravissima, ma anche la semplice anamnesi, cosa è l'anamnesi? La raccolta della storia clinica del paziente, il primo campanello d'allarme lo si ha se si ha familiarità, perché se si ha familiarità subito bisogna andare a fare delle indagini per vedere che non ci siano fattori di rischio. A livello di linee guida la controindicazione assoluta per la prescrizione è l'aver avuto già un evento avverso cardiovascolare, quindi un ictus, una trombosi, a quel punto noi di default non dobbiamo assolutamente prescriverlo. In alternativa la paziente deve sempre sapere tutto, si fanno tutte le analisi necessarie e si va ad escludere questo rischio, o almeno per quel che si può, perché la scienza sa tanto, ma c'è sempre tanto da scoprire, quindi non possiamo coprire l'annullamento del rischio al 100%, ma al 99%. Lì, dottoressa, perché possono subentrare altri fattori di rischio, nel senso che il fattore non è mai uno solo, e ovviamente non tutti sono prevedibili fondamentalmente. Agiamo laddove sappiamo, però ovviamente c'è una terra che purtroppo resta sempre sconosciuta. Torniamo invece ai farmaci che stava elencando, quindi eravamo arrivati a queste compresse che presentano questo effetto collaterale sostanzialmente, poi sono principalmente tibolone o spiemifene, e poi abbiamo la categoria ormoni, ma di ormoni anche qui non ne abbiamo uno solo, abbiamo il classico estrogeno, abbiamo poi anche un ormone uscito negli ultimi anni, o almeno più conosciuto negli ultimi anni, perché in realtà si è stata da tempo, che è il DEA, D-H-E-A, che è un ormone particolare perché? Perché si trasforma, almeno a livello vaginale, in parte in estrogeni e in parte in un altro ormone che noi sottovalutiamo tanto, che è quello androgenico. Cosa fa questo ormone androgenico? Aiuta la parte desiderio. Quindi è un po' più completo sull'aspetto del ripristino della funzionalità a tutto tondo, di negativo, tra virgolette, che è un po' meno nutritivo, perché se quella stessa quota si trasforma in parte in quota estrogenica, in parte in quota androgenica, la parte nutritiva viene un po' meno. Però è comunque di efficacia. Quindi io ho parlato degli ormoni locali, perché si è visto che la terapia ormonale sostitutiva in toto è un po' meno efficace dell'ormone ovviamente localizzato. Oltre alla categoria farmaci, abbiamo poi dei dispositivi medici, che è il laser vaginale. E qui si apre anche qui un mondo, perché a parte che molte persone dicono cose, il laser è il primo pensiero, ovviamente, oddio fa male, brucia, no, 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 no. Perché si associa laser, calore, no? Esatto, calore, ma calore lesivo. In parte hanno ragione, nel senso che il primo laser vaginale è nato circa 20 anni fa all'Istituto Europeo di Oncologia e agiva anche un po' bruciando il tessuto. Quindi tanto piacevole non era, però per quelle povere pazienti che altri trattamenti non avevano certo è stata un'utile cosa, insomma, che si è apportata. Per fortuna la medicina è andata avanti. Adesso fin troppi laser abbiamo in circolazione che non si capisce più nulla. Quindi magari faccio io qui adesso una sintesi dicendovi che il laser si distingue principalmente in ablativo e non ablativo, poi in mezzo ci sono i microablativi. L'ablativo esercita la sua azione, come dice il tessuto stesso, ablando, quindi bruciando un po' il tessuto e in quella maniera stimola la produzione di acido ialuronico e collagene. I non ablativi invece agiscono non ablando, quindi con questa sorta di luce va a stimolare la cellula a produrre fisiologicamente acido ialuronico e collagene, simulando una determinata proteina che si chiama proprio heat shock protein. E questo è stato molto sfruttato nella medicina estetica, poiché molti trattamenti di laser per ringiovanire si utilizzano per la medicina estetica e finalmente è stato apportato anche a livello vaginale. Dottoressa, e quindi questi laser vengono utilizzati per questi problemi, quelli che hanno la menopausa, ma non solo però? No, perché non solo per la secchezza vaginale. Allora, due cose. Per la secchezza vaginale, considera che la secchezza vaginale non si instaura solamente in menopausa, ma si può instaurare anche lì dove noi, almeno menopausa fisiologica, o dobbiamo indurre una menopausa, quindi pazienti oncologiche che magari hanno i 35 anni ma va indotta la menopausa e date terapie antiormonali, paziente che si ritrovano ad avere un alto grado di endometriosi e quindi anche lì devono fare terapie antiormonali e si possono ritrovare ad avere secchezza vaginale, ma non solo appunto per questo piccolo ambito, perché il laser viene utilizzato anche per l'incontinenza urinaria, che molto spesso, nel 50-70% dei casi, si può presentare in menopausa e per i prolassi vaginali, quindi poi l'utilizzo è ancora più ampio e sempre per il ripristino della funzionalità in situ. Un'altra curiosità, tutte le terapie di cui stiamo parlando, lei giustamente, dottoressa Mallozzi, diceva che va fatta un'anamnesi, eventualmente se è necessario anche delle analisi, eccetera, ma va tarata poi di volta in volta anche sulla risposta soggettiva che la paziente può avere o di solito, diciamo, la terapia che si decide inizialmente è quella giusta? No, assolutamente, come dico sempre, a maggior ragione da quando ho iniziato a lavorare nel centro menopausa del Paideia International Hospital, la terapia in generale per la menopausa è sempre cucita sul paziente, quindi in base alla sua storia clinica, alla sua situazione e a quello anche che lei desidera, si vanno a valutare tutte le terapie disponibili e quelle che statisticamente, a quella su cui statisticamente la paziente risponderebbe meglio. È ovvio che su una paziente che è da 10 anni, che ha secchezza vaginale, sì, posso anche provarlo l'ovulo, la cremina a basse di acido ioluronico, ma devo essere sincera con la paziente, rischi di spendere soldi inutilmente, perché, ritorno all'esempio della medicina estetica che rende più l'idea, se io ho una ruga profonda di una persona che magari ha 70 anni, di media, hanno queste rughe più profonde, non posso illudere la paziente che con la cremina antiruga a base di acido ioluronico io vado a spianare la ruga. Stesso discorso anche qui, quindi si tratta storia clinica della paziente, pro e contro di ogni trattamento, quale incastriamo, decidiamo insieme, perché io ho anche pazienti che magari a parere medico andrebbe meglio un certo tipo di trattamento, loro sponte consce della cosa, la dottoressa, io voglio l'ormone, voglio star bene, voglio subito il risultato, voglio, allora lì ovviamente si tratta di discutere e scegliere insieme qual è la cosa più opportuna, perché io guido, ma poi a decidere sempre l'altra persona. Certo, ovviamente poi la scelta è la vita, insomma, della paziente, ma un'altra curiosità, lei prima ha citato un esempio della paziente che magari ha un problema di secchezza vaginale da una decina di anni, da un decennio, allora questo mi ha messo un po' una vulce nell'orecchio, cioè volevo capire se anche in questo ambito la prevenzione o comunque l'intervento super precoce, precocissimo, aiuta il risultato e quindi se le donne dovrebbero porsi il problema, ancora prima che accada. Nella maniera più assoluta, anche perché devi considerare che noi di media, sì, andiamo in menopausa a 50 anni, ma il processo di calo ormonale inizia anche un po' prima, non con tutte, perché non tutte, torno al discorso, non andiamo tutte in menopausa in maniera uguale, la menopausa è lo spegnimento dell'attività dell'ovaio e questo ovaio si spegne in tutto e un po' in maniera diversa, c'è chi veramente è come premere un pulsante da un giorno a un altro, non ho più ciclo e ho tutto questo quadro, e invece pazienti che piano piano, dai 40 anni, iniziano ad avere saltuariamente, non sempre, questa secchezza che poi piano piano aumenta nel tempo e quindi già da lì, come dicevo prima, dal primo accenno, la cosa migliore è intervenire subito, perché con pochi piccoli aggiustamenti, poche piccole cosine, si risolve subito il problema senza andare poi a finire magari su altre prospettive. Perché in altre parole si evita l'aggravamento intervenendo in modo precoce, già prima che magari la menopausa sia proprio conclamata. Esatto, si evita l'aggravamento e si possono utilizzare terapie che hanno meno effetti collaterali, tranne per quanto riguarda il laser, perché a mio parere il laser, ma non solo a mio parere, lo dicono ormai tutti gli studi scientifici, è veramente un trattamento che in qualsiasi ambito tu lo fai, non ha effetti avversi, quindi soprattutto il non ablativo che non dice neanche bruciore o quant'altro. Però per gli altri trattamenti, ovviamente, che magari quelli un po' più importanti, gli effetti collaterali ce l'hanno, quindi se noi possiamo utilizzarne altri, perché non farlo? Quindi detto in altri termini, quando è che dovremmo già cominciare a preoccuparci della menopausa? Quale età? Ovviamente lo so che ogni donna ha il suo periodo di menopausa, che l'età conclamata, diciamo, non è sempre la stessa, però generalmente se dovessimo dare un arco, diciamo, temporale, lei cosa direbbe? Allora, a parte i controlli annuali, dai 40 anni, quando iniziano ad esserci o i salti di ciclo, o i cicli che arrivano ogni 15 giorni, o cicli emorragici, o iniziamo ad avere le vampate, a non dormire la notte, a essere super irritate, vuol dire che qualcosa magari nel nostro corpo sta iniziando a cambiare e inizia ad aver bisogno di una guida. si può anche presentare, anche se è raro in questa fase, ancora la secchezza, però da questi primi cambiamenti lì è necessario fare un attimo, un punto della situazione e vedere come proseguire. Quindi da lì bisogna iniziare ad essere guidati. Bisogna, insomma, ascoltare ogni campanile d'allarme, già dal primo, eventualmente, insomma, rivolgersi al proprio ginecologo di fiducia, coscia del fatto che comunque le donne, insomma, devono controllarsi appunto almeno una volta ogni anno. Dottoressa Mallozzi, però le volevo chiedere anche, stiamo parlando di secchezza vaginale, questo diciamo è il focus, l'argomento principe della nostra conversazione. Abbiamo detto che si può verificare non solo il menopausse. Ecco, vogliamo fare un elenco di tutte le situazioni nelle quali per una donna potrebbe presentarsi questo disagio? Certamente. Questo disagio della secchezza si può sviluppare in post-gravidanza, cosa che molto spesso non viene detta, perché anche lì abbiamo un cambiamento nuovamente ormonale e si può sviluppare secchezza e incontinenza. Poi l'incontinenza è aggravata ancora di più dai mesi precedenti in cui c'è stato questo sovraccarico ormonale e eventualmente se si è avuto un parto vaginale, ancora di più per uno stiramento dei plessi, insomma, in quella zona. Si può sviluppare anche quando si utilizza un contraccettivo orale, ma anche l'anello vaginale e lì si mischiano un po' le cose, perché ecco, questa è una cosa importante che voglio dire, a volte si confonde, perché le sensazioni sono simili, la secchezza dall'infezione vaginale. L'infezione vaginale può dare un sintomo simile, quindi mi raccomando, prima di fare qualsiasi trattamento, fate sempre un tampone per i germi comuni e non solo. Anche quello che viene definito lo swab test. Cos'è lo swab test? Altra cosa che viene confusa a volte per secchezza vaginale è la vulvodinia o la vaginodinia. Ne avrete sentito parlare, perché l'ex compagna De Maneskin, insomma, ormai è diventato un simbolo di questo problema che se ne parla ma molti non conoscono. Cos'è la vulvodinia? È la percezione alterata di uno stimolo. È come se io toccassi questa pelle e sentissi come se avessi dettagli, come se mi stessero tagliando a pelle viva. Ovviamente è un'alterata percezione, si può sviluppare per tantissimi motivi, dal mancanza di nutrimento, quindi secchezza, distrofia, a infezioni decidivanti e quant'altro. A livello sintomatologico si può presentare come una normale secchezza vaginale, ma qual è la differenza? Che il trattamento è completamente diverso, perché prima devo andare a togliere tutto il quadro infiammatorio, poi posso andare, per quanto riguarda il caso menopausa, a nutrire il tessuto e rifarlo a star bene. Quindi ti ringrazio per la domanda perché è veramente molto utile, penso, per le donne che ci stanno ascoltando, perché sono cose di cui manca ancora molta informazione. Molte donne si ritrovano ad avere questo problema senza trovare soluzione, magari è stata solo errata la diagnosi. Diciamo che questo mi dellà a me, insomma, per invece sottolineare anche un'altra cosa che è quella praticamente del non lasciarsi prendere dal cosiddetto fai-da-te. Nel senso che se qualcuna sta ascoltando adesso le parole della dottoressa Mallozzi e pensa che possa risolvere il suo problema di secchezza vaginale senza sapere quale sia la causa con degli ovuli, è bene che non lo faccia, insomma, perché qui diamo dei consigli nel massimo per orientare le nostre ascoltatrice ai nostri spettatori, ma è bene che poi, dottoressa, sia sempre uno specialista a capire effettivamente qual è la problematica. Sarebbe meglio. Perché altrimenti si finisce per... Magari l'ovulo, un sollievo lo dà in quel momento, probabilmente, ma non risolve nulla, anzi, può peggiorare la cosa perché... Ti confermo la cosa. Quello che a volte mi succede quando c'è questo automedicamento e che ovviamente si va in farmacia, il farmacista ti prescrive la qualsiasi, molto spesso vengono vendute e prese vere e proprie creme anestetizzanti lubrificanti, non faccio i nomi commerciali, che creano appunto la vulvodinia e problematiche ancora più grandi. Perché? Perché tu hai che lì per lì, sì, ok, hai il lubrificante, ma il tessuto è sofferente, il tessuto in menopausa diventa piano piano sottile, tu copri il dolore, ma crea il microdanno e quindi poi man mano nel tempo il problema peggiora e lì diventa più difficile, poi bisogna fare un percorso un po' più lungo per riportare tutta la normalità, a parte i disagi che si hanno lì nel momento stesso. Quindi concordo pienamente con questa tua affermazione. No, no, ci teniamo insomma a sottolinearlo perché altrimenti se no a volte poi si crea confusione e si pensa che le cose possono essere davvero risolte con poco. E che purtroppo siamo tanto complicati. Io dico sempre, il cromosoma X è una gran fregatura perché non siamo semplici e lineari, abbiamo tante sfaccettature, siamo delle creature meravigliose, però molto complesse e molto particolari. E soprattutto a volte poco inclina a dedicarci del tempo, delle cure e delle attenzioni, direi. Assolutamente, la donna è la colonna portante della società, della famiglia, di tutto, però poi per pensare a tutti non pensa a se stessa e invece è importante che lei pensa a se stessa perché se crolla la donna, crolla tutto. Quindi anche per un atto di non di egoismo ma di amore verso gli altri dobbiamo avere cura di noi. Anche perché in questo caso diciamo che non solo crolla il benessere della donna ma anche quello della coppia, perché come dicevamo poi inevitabilmente è una problematica che si ripercuote nell'intimità e quindi l'uomo può anche in quel momento non caverci nulla perché non sempre l'uomo è in grado di comprendere che si tratta di un disagio dovuto ad un periodo fisiologico della donna. Ed è vero, la prende come una cosa personale. Non so se hai visto le statistiche, ma purtroppo la maggior parte dei divorzi veramente accade dal periodo pre-meno pausa a post-meno pausa. Non è un caso perché queste dinamiche appunto non sono ben conosciute. L'uomo lì per lì non capisce, non percepisce, non sa neanche lui questa cosa. Quindi un po' l'irritabilità che può iniziare le vampate e non prendere sonno. Si è arrabbiati con il mondo, si ha anche una trasformazione corporea, non ci si piace più, non ci si prende più. E l'aspetto sessuale sconvolge tutto. No, e sono solo gli ormoni che stanno facendo un po' le bise, dobbiamo un attimino aiutare un po' tutte le situazioni. Quindi caro uomo, tua moglie non è che non ti ama, anzi ti ama ancora di più perché nonostante stia in una situazione di sofferenza, continua comunque a cercare di mandare avanti il rapporto coniugale e tutte le sfere familiari. Quindi deve solo avere la soluzione giusta. Sì, infatti diciamo che io questo un po' l'avevo anticipato preannunciando qual era il tema di apertura della serata, dicendo sì, ci occupiamo della salute della donna, ma indirettamente ci occupiamo anche di quella dell'uomo e della coppia in generale. Infatti avevo proprio dato questo preavviso ai nostri telespettatori, perché altrimenti l'uomo che si trovava sintonizzato cambiava canale, invece no, perché è giusto che queste cose le ascolte e che comprenda assolutamente quali sono le esigenze che può avere una donna. Ma quando si cominciano queste terapie, ammesso ovviamente che lo si faccia nel modo giusto con lo specialista, nel modo precoce che abbiamo indicato, quanto tempo ci vuole per ristabilire, diciamo, una normalità, se così possiamo chiamarla? Dipende dal stato dell'atrofia, nel senso che se noi abbiamo un'atrofia iniziale, è molto semplice, veramente si acquisisce anche in 15-20 giorni il ripristino della funzionalità. diverso è se, come dicevo prima, andiamo su un'atrofia più di lunga data. Anche qui dipende anche dal trattamento, perché per esempio, per quanto riguarda, come dicevo prima, il laser vaginale, io già dalla prima seduta ottengo risultati notevoli. Ho avuto pazienti che non mi sono ottona, perché in tutto devi considerare che, almeno il tipo di laser che io utilizzo io, che è il Lady Lift, non ablativo, si fa una seduta ogni due settimane per un totale di quattro annuali, per poi avere una durata che dura circa un anno. Ecco, molte mie pazienti dopo la prima seduta risolvono il problema, non mi tornano a visita, ma due mesi dopo mi ritornano, perché ovviamente l'effetto è svanito. Quindi dipende sia dal trattamento e sia dallo stato iniziale di partenza della secchia. La cosa importante è che se si comincia un trattamento bisogna portarlo a termine, nel senso che magari il risultato immediato non deve far pensare che il problema sia risolto, ma che siamo sulla strada giusta. Esatto, bisogna raggiungere, devi considerare che purtroppo quando si va in menopausa bisogna un po' accettare che, a meno che non si ridano ormoni, la carenza ormonale, la carenza di nutrimento dura da quell'epoca in poi. Quindi è normale che noi l'aiutino lo dovremo dare sempre. La differenza è come darlo. La cremina, una volta andata al regime, si mette un giorno sì o un giorno no, la stessa cosa agli ormoni locali, la compressina andrebbe presa tutti i giorni, sempre, il laser, quattro sedute annuali. Quindi sono differenti tipologie di trattamento, ma che comunque uno deve prevedere di dover fare durante tutto il corso della vita in post menopausa. Ok, un investimento che vale la pena comunque affrontare. È qualità di vita. Visto che siamo praticamente in chiusura purtroppo quasi di questa nostra conversazione. Vogliamo, in due minuti, due però che sia, sintetizzare campanelli di allarme e possibili soluzioni, proprio in modo schematico, in modo che magari se qualcuno si è sintonizzato ora ha comunque un quadro della situazione. Campanelli di allarme della secchezza vaginale sono sensazione, come dicevo prima, di secchezza, dolore durante i rapporti, in primis. Quali sono le soluzioni? Ovoli e creme a passi di acido iuluronico, compressine, farmaci, SERM, laser vaginale e creme ovuli a base di ormoni, estrogeni, DEA, eventualmente anche testosterone per la parte desiderio. E allora, siamo più chiara di così, si muore, insomma è stata anche super sintetica. Allora, l'unica cosa da ricordare alle donne è comunque di ricordare di fare ogni anno i giusti controlli, laddove hanno una problematica di non trascurarsi, come abbiamo detto, perché anche un piccolo sintomo, un piccolo campanello di allarme, in realtà può nascondere un problema più profondo che però si è affrontato oggi, al di là della secchezza vaginale, ma anche altri sintomi che portano alla menopausa, possono essere risolti, possono essere alleviati, quantomeno con la terapia personalizzata, cucita su misura e più adeguata. Allora io la ringrazio, dottoressa Mallozzi, per essere stata donna questa sera. Piacere mio. Una mela al giorno ovviamente non finisce qui, rimanete sintonizzati su questo canale perché ci rivediamo tra pochissimo, dopo una breve pausa pubblicitaria, ancora con tante novità. Vi aspetto.